Verissimo. Silvia Toffanin emozionata, Leonora Pedron rivela un annuncio drammatico in diretta televisiva, lasciando tutti attoniti. Benvenuti nel nostro canale. Prima di iniziare il video, ti invitiamo a iscriverti, lasciare un like e attivare la campanella per non perdere tutti i prossimi aggiornamenti. Eleonora Pedron, ex Miss Italia, ha affrontato tragiche perdite nella sua vita, mostrando però coraggio e resilienza. A nove anni ha perso sua sorella Nives in un incidente automobilistico, e nel maggio 2022 suo padre è deceduto nella stessa tragica circostanza, con Eleonora presente in macchina. Nonostante le avversità, Eleonora ha trovato la forza di andare avanti. A dicembre ha ottenuto la laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche presso l'Università Cusano, un traguardo che rappresentava un sogno condiviso con sua madre. Eleonora, ora 41enne, ha sottolineato la difficoltà di tornare a studiare a 40 anni, ma ha affrontato la sfida con determinazione. Il percorso accademico è stato significativo, e Eleonora ha rivelato che scrivere la sua autobiografia l'ha motivata a condividere la sua storia per aiutare gli altri, specialmente i bambini che vivono situazioni simili a quella vissuta da lei da piccola. Eleonora è grata per il sostegno della madre e ha rivelato che la dolce lettera ricevuta da lei le ha fatto versare molte lacrime. L'ex Miss Italia ha sottolineato la forza della madre nel superare le avversità, mantenendo un cambiamento inevitabile nella vita, Eleonora ha condiviso anche dettagli intimi sulla sua vita personale, rivelando il suo rapporto con l'ex campione di Moto Max Viaggi, padre dei suoi due figli adolescenti. Ha sottolineato la necessità di mantenere un rapporto di rispetto e responsabilità per il bene dei figli. Attualmente nella vita di Eleonora c'è Fabio Troiano, 49 anni, con cui ha una relazione basata sul dialogo e sulla comunicazione. Eleonora ha elogiato la leggerezza di Fabio e la loro vicinanza emotiva. La storia di Eleonora Pedron è un esempio di resilienza e speranza, un inno alla forza interiore che può emergere anche dalle circostanze più difficili. Lascia un commento alla fine del video e seguici per non perdere i prossimi aggiornamenti. Grazie per averci seguito, a presto con un nuovo video.